I leader di Lega e Fratelli d'Italia impongono una strategia anche se sono divisi sul futuro del governo, di Alessandro Farruggia Dado e Tratto. Berlusconi ha deciso, e gli alleati, che francamente non ne potevano più di essere appesi al filo della sua candidatura, vedono la scelta come una liberazione che apre alla politica. Certo, ciascuno ha la sua agenda. Ben distinta che porta anche a toni forti nel vertice di ieri. Salvini manovra da tempo per essere il kingmaker, fì per avere un presidente possibilmente d'area o almeno non di sinistra ed evitare un accordo che blindi la legislatura. Certo è che tutti nel centro-destra applaudono alla scelta del cavaliere. Apprezziamo la responsabilità di Berlusconi, dice Giorgia.